Dele Bashiru della Lazio entro 200 secondi, arriva dalla Taispor, un nigeriano, è un giocatore che l'anno passato invece aveva giocato nella Sheffield-Wesney, che è una nobile decaduta, era finita in Ligue 1, quindi nella terza serie, la serie C inglese, e l'ultimo anno appunto nella Taispor, nella Liga Turca, è un giocatore, è vero che ha giocato anche trequartista, e potrebbe giocare trequartista o comunque mezzala, però appunto non vi aspettate Luiz Salberto perché non ha la tecnica di Luiz Salberto, non ha i passaggi, non ha il tranti, non ha il controllo palla di Luiz Salberto, è più un giocatore, se vogliamo, alla Folo Ruscio, quindi le caratteristiche sono quelle, di grande forza fisica, progressione, non so sinceramente se in Turchia, ho visto qualche partita, ma non, in alcuni casi è vero che giocava anche in una squadra che non era fortissima in Turchia, e pagava anche questo, magari a volte anche i suoi strappi non portavano a molto, in altre occasioni invece sì, perché comunque giocava un avversario meno, un po' più alla sua portata, alla portata della squadra più che altro, è stato un bel investimento, non mi aspetto però sinceramente grandi cose da lui, nel senso che ha delle caratteristiche importanti che possono anche esaltarsi nel gioco di Baroni, perché comunque Baroni non è un giocatore, non è un tecnico da possesso, non è un tecnico, è un tecnico che comunque ama andare sulle fasce, ama gli strappi, per questo li apprezzava un giocatore appunto come Folo Ruscio, se vogliamo anche come Suslov, che aveva fatto molto bene la seconda parte di stagione al Verona, quindi, però insomma, non credo che le otto reti e i cinque assist che ha fatto in Turchia li possa ripetere, e neanche troppo vicino, quindi ci spenderei il minimo, non ci punterai tantissimo, non ci andrei a rischiare tanto, anche se appunto, come detto, potrebbe essere un giocatore interessante per Baroni, ma mi aspetto che possa giocare magari più durante la stagione che non all'inizio, quindi il minimo, il minimo, puntateci il minimo, non puntateci oltre, perché sono un po' dubbioso sul suo impatto nel calcio italiano, quindi andateci piano sul suo acquisto.